Eccomi di nuovo, scusatemi ho fatto un po' di confusione con i gruppi, però mi hanno avvisata per tempo, qualcuno è venuto e mi ha detto ti sei collegata male, quindi perdonatemi, perdonami Gaetano, scusami, benvenuti a tutti di nuovo, grazie, ho detto eccomi, sì, ero collegata su un altro gruppo, non ho capito se era il mio profilo, non so cosa ho combinato oggi, però va bene, ci siamo, dai, ci siamo, a volte capita, grazie Mirella, mi hai avvisata, mi ha avvisato mia figlia in realtà, è venuta e mi ha detto mamma hai sbagliato, non è il gruppo, dico come non è il gruppo, però va bene, così aumentiamo un po' le energie, anche loro fanno questo, chissà, magari speriamo che non mi combinano qualcosa questa sera quando arrivano, Sì, rieccoci Lorna, perdonatemi, ho fatto un po' di confusione, ho fatto un po' di confusione, va bene, un minuto, un minuto soltanto, sì Eleonora, ciao Eleonora, ti adoro, sei unica, sì lo so, faccio un gran casino, però io ci provo, eh, provo a fare le cose in ordine, però questi sono gli imprevisti. Buonasera a tutti, benvenuti, Marco, buonasera, ah, la prima volta, bene Marco, benvenuto, grazie, Alessandra, Rita, Rosa, ciao Rosa, serata di sorpresa, allora, oddio, speriamo non troppo, eh, Brunella, Serena, Luigi di nuovo, ciao, Maya, ok, Gabriella, buonasera a tutti. Allora, eccoci qua, io mi prendo un minuto per entrare in contatto con il mondo spirituale, appena sento lo spirito, la presenza, la persona che arriva, io porterò le sue evidenze affinché qualcuno di voi che sta seguendo la diretta possa riconoscerlo, ok? Non sono io che decido, quindi vi chiedo gentilmente, io lo so che voi, eh, avete bisogno di parlare con i vostri cari, però non sono io che decido, sono loro, non ho ancora capito con quale, eh, quali sono le dinamiche con cui scelgono, eh, come arrivare e chi, e come, eh, in ordine, eh, arrivano per portare la parola, nel senso che quando io apro le porte per voi, eh, c'è moltissima gente, quindi poi a un certo punto vedo una persona alla volta. Buonasera per chi si collega per la prima volta, vedo che diverse persone hanno scritto, è la prima volta, è una dimostrazione pubblica di medianità, eh, apro le porte, arriva lo spirito, in base alle sue evidenze, qualcuno di voi che sta seguendo la diretta potrà riconoscerlo. Io vi chiedo cortesemente di non scrivere durante il contatto, perché altrimenti mi confondo. È pur vero che ad un certo punto io chiederò tanto se tra qualcuno di voi c'è qualcuno che può riconoscere il nostro ospite, la persona che è arrivata. Se riconoscete almeno l'ottanta per cento delle evidenze, potete cominciare a scriverlo. Perché l'ottanta per cento? Perché a volte magari si interpreta male quello che arriva dal mondo spirituale. Di fatto, mh, alcune volte sono chiari i messaggi o la modalità con cui percepisco, altre volte magari su qualcosa, eh, mh, posso confondermi. Questo purtroppo, quando siamo in diretta e dove non c'è un rapporto diretto con il richiedente, è più difficile. Perché non posso fare le classiche domande, puoi capire, puoi riconoscere questa immagine. Non è veloce la risposta, quindi potrebbe essere mal interpretata da me perché non riesco a fare la domanda giusta. Buonasera Martina, benvenuta, benvenuta. Quindi, cominciamo subito, dimostrazione pubblica di mia identità. Io ringrazio tutti quanti voi, ma ringrazio soprattutto il mondo spirituale che mi permette di poterli contattare e di poter portare la loro voce. Perché credo che sia un grande, per me è un grande onore, è un grande privilegio. Aprite il vostro cuore, espandete la vostra energia lì, lì su, dove credete che loro siano. Va bene, così non sbagliate. Io farò la stessa cosa appena sento la persona che arriva, porterò le evidenze per farla riconoscere. D'accordo? Grazie Mirella che ci sei, grazie voi operatrici siete fantastiche e meravigliose. Grazie. Iniziamo subito. Vediamo chi c'è. Allora, io percepisco una signora trapassata intorno ai 78 anni, lei è nel mondo spirituale da circa un paio d'anni, non è molto tempo che è nel mondo spirituale. Diciamo intorno ai due anni, tra i due e i cinque anni è il tempo che è trapassata. Come è trapassata la signora? Per chi mi conosce io chiedo sempre queste informazioni affinché sia più veloce il riconoscimento. Allora, la signora mi dice che prima di trapassare è caduta e quindi mi fa sentire un dolore, un fastidio, un fastidio alla gamba destra. Quindi, prima di trapassare aveva un problema, cioè mi fa sentire questo dolore alla gamba destra. Come è trapassata la signora? La signora mi dice che è trapassata perché non respirava bene, aveva problemi a far arrivare ossigeno ai polmoni. Sento che all'affanno, respirava male. Sento che non è stata molto tempo in ospedale perché la signora mi fa vedere che lei viveva in casa. Poi a un certo punto si è sentita male, è stata portata in ospedale e diciamo è trapassata in poco tempo. Non è rimasta molto in vita durante la sua degenza in ospedale. Sento che la signora è una mamma perché percepisco la famiglia, percepisco i figli, sento almeno due figlie. Mi parla di due figli, però io sento che mi sta, credo, credo, ecco qui è dove dicevo prima. A volte mi fanno vedere se i figli sono maschi o femmine, a volte no. La signora mi fa vedere però, mentre continuo a portare l'evidenza, due figli e femmine, ma credo che ci sia anche un maschio. Perché, perché, perché sì, ok? Perché so che è così. La signora mi fa vedere il posto da dove arriva. Lei, io la sento verso il centro nord dell'Italia, mi fa vedere che abitava lì. Vediamo che altro mi dice la signora. Allora, io sento che questa signora arriva come nonna, cioè sento che c'è un legame dal sentire, a livello di amore che mi porta, che è una nonna. Le nonne le riconosco subito, però sento anche che mi fa vedere l'albero generazionale, dell'albero generazionale, quindi so quando è così che c'è un legame biologico anche con questa signora, con qualcuno che può riconoscerla. Vado avanti, vado avanti perché la signora mi fa sentire che aveva proprio, parlava velocemente, un po' come sto parlando io adesso, ok? Quasi parla, però poi passa da un discorso all'altro e poi riprende magari il discorso precedente. È una signora molto particolare perché è anche un po' ironica nel modo in cui trasmette le informazioni. Poi la signora, io questo non so se ha a che fare con la signora o con chi può riconoscerla. Mi fa vedere questo, vedete come faccio? Così un po' il collo con le vene evidenziate che si vedono. Ecco, è curiosa questa cosa quindi la racconto. Vediamo se c'è qualcuno adesso tra di voi che può riconoscere la signora. Allora, Alice, allora no, prima Iole. Potrebbe essere mia mamma aveva un tumore al polmone, ma prima è caduta, si è rotta un femore. Ok, Iole, rimani con me. Mia nonna ha 78 anni, Alice è mancata da due anni, è stata portata in ospedale ed è stata in coma due giorni. Ed è stata passata poi due figlie. Ok. Danila, mia mamma ha marzo due anni, che è mancata, 78 anni. Dopo cinque mesi aveva lasciata il G a destra e è mancata in 48 ore. Sì, è stata pochissima in ospedale. Allora, Danila e Alice, rimanete con me, ok? Perché sento che la signora, siccome siete vicino, ho letto i due nomi e mi ride, quindi non so chi delle due sorride. È ironica la signora, come per dire, visto? Allora, Alice, mia nonna corrisponde tutto finora. Sono figlia di Danila. Ah, ok, ecco perché. Questo è uno scherzo. Vogliamo considerarlo uno scherzo? Perché è curioso. Mamma e figlia insieme e la signora risopera entrambi, quindi io dovevo capire bene. Dovevo capire bene, ok? Allora, Danila aveva il vizio di tirare il collo come hai fatto te, Vittoria? Ok, sì, perché le mamme ha detto tutto, fagli vedere questo. Dico sì, ok, bene Danila, rimani con me. Allora, anche se sento che sono con voi, nonostante la signora abbia detto due figlie femmine più uno, però sento che, la sento ormai, ho capito come funzioniamo. Ok, mia mamma se n'è andata poco più di un anno fa, dopo pochissimi giorni in ospedale, soffriva di asma e si era rotto il femore. Ok, Alice nonna, il figlio di cui parla è nell'oltre con lei. Ah, ok Danila, ok, grazie per avermelo comunicato, per avermelo scritto. Ok, allora, vado un po' avanti. Allora, Rosy, ciao, buonasera Rosy, siamo due femmine, il maschietto non abbiamo mai conosciuto e con lei, spero. Ma io credo di sì, perché due più uno. Allora, vediamo un attimo, Rosy, buonasera Rosy, mia nonna è trapassata nel 2020 a 79 anni, siamo tre figlie, due femmine. Allora, mia mamma, scusami, mia mamma, aveva problemi e polmoni caduta un anno prima. Allora, Rita, mia nonna ha 78 anni, due giorni in ospedale dopo una caduta, passata da un discorso all'altro perché aveva l'Alzheimer. Il primo figlio maschio e una femmina stava sempre con me e mamma, però morta nel 2000. Allora, Rita, ti ringrazio, io sono sicura che la tua nonna è qui con noi, però sento che la signora è trapassata da poco. Allora, quando è arrivata la signora ha 78 anni, due anni come data, ok, mi ha dato del trapasso. E poi queste vene del collo è proprio un suo segno di riconoscimento. Quindi io sento che so con Danila, Danila e Alice perché la signora mi sorride e sono certa che sono con loro. Ed è per questo che la signora anche, lo dico per chi segue la medianità, per chi vuole imparare e per capire, mi ha fatto vedere l'albero, ok, l'albero proprio perché c'era la generazione, i suoi discendenti, i più discendenti che potevano riconoscerla. Va bene, allora, io sono con Danila e con Alice. Allora, la signora, la signora, la prima di tutto vi voglio dire che la vostra, tua nonna e la tua mamma sta bene. Nel mondo spirituale mi dice di dirvi, non so se per voi ha un senso che ha la sua libertà, ha il suo spazio dove muoversi. E poi il messaggio. Allora, un messaggio per Alice. La nonna mi parla di relazione, mi parla di fidanzato in realtà, qualcosa che ha a che fare con l'amore per te. Che qui il messaggio della nonna è Alice, è un messaggio di augurio verso l'amore. Adesso io qui non riesco bene se mi sta trasmettendo il fare gli auguri per un amore che è esistente, che è appena nato o che comunque è verso la completezza della famiglia o se è un messaggio di augurio per questo amore che arriverà. È legato comunque, Alice, alla tua relazione, ok? Al tuo compagno, a qualcosa a che vedere con la gioia di vederti con un ragazzo. Mi parla della tua relazione, ok? Mi fa sentire tanta gioia per questo tuo incontro, ok? Allora, sì, sono fidanzata da cinque anni, lei lo adorava, ok, ok. Allora ecco, forse vuole dire che è arrivato il momento di sposarsi, magari perché ha parlato di famiglia, no? Come primo dettaglio, lei mi ha parlato il momento di fare la famiglia, di creare la famiglia. Forse vorrebbe magari il matrimonio, la nonna, no? Di antiche... è un po' antica. Non sa che adesso va di moda anche coinvivere, fare i figli senza matrimonio. Quindi, comunque, la nonna mi fa vedere la tua relazione che andrà sempre avanti. Mi porta un messaggio proprio di augurio, di felicità, di buona riuscita. E adesso veniamo a Daniela. Daniela, tu lo sai che la mamma ti adorava, sai che nell'ultimo periodo lei non riusciva molto bene a trasmettere il suo amore. In realtà lei mi dice che non è stata proprio una grande... nel trasmettere l'amore non è stata molto fisica, ok? Sì, mi fa vedere che gli abbracci e i baci non sono stati così tanti quanto avrebbero dovuto essere. Spero che tu puoi capire. E quindi lei ti abbraccia forte, forte, forte con tutta la sua forza, ecco, in realtà, e con tutto il suo amore. Danila, sei una donna meravigliosa che è riuscita a portare sempre avanti quello che si era ripromessa. Hai la testa dura, tu spacchi tutti i muri. E quindi la mamma dice vai avanti così, non mollare mai perché ce la farai come è sempre accaduto. E poi questa nonna e questa mamma che vi porta tanto tanto amore. Lei è onnipresente nella vostra vita, non dimenticatelo mai. E poi non so, mi parla del cimitero, ok? Quindi, cioè, io vedo in realtà una... Cioè, il tema è il cimitero perché vedo una lapide. Una lapide con una foto di coppia, non so se può avere un senso per voi, e sorride su questo. Quindi, non so che senso può avere, però sorride. Quindi, tanto amore da parte della nonna e da parte soprattutto della mamma. Danila, per te. Lei ti adora e sorride sempre. Niente lacrimucce. Ok? Va bene? E poi un'altra informazione, perché mi parla di marzo, come se ci fosse un qualcosa a marzo. Un anniversario, un compleanno, qualcosa che ha a che fare con gli auguri. Perché lei mi dice... No, non è vero che mi dice. Lei in realtà mi fa vedere... Sai quando i compleanni è torta, fiori... Ecco, mi fa vedere un po' di questi simboli, che per me rappresentano un anniversario, come mese marzo. E quindi lei vorrebbe portare gli auguri per questo compleanno, credo che sia, per marzo. Quindi la nonna c'è e sa tutto e vede tutto. Ok? Tanto amore da parte della nonna. La salutiamo. E della mamma. Ha precisato. Io ho detto della nonna e lei ha detto anche della mamma. Ok. Allora, questa signora è meravigliosa. Danila, non so se magari tu segui... Sì, perché vedo il tuo nome nelle dirette. Quindi tu sai che io ogni volta che loro vanno... Le sto salutando, io gli chiedo sempre se hanno qualcosa da dirmi in più, perché io sono curiosa, no? Non vorrei mai lasciarli andare. E la signora mi ha detto, Danila, che mi ha parlato dei tuoi capelli. Come se dovessi andare dal parrucchiero, se è appena andato dal parrucchiere. Voleva parlare dei tuoi capelli, della tua acconciatura, del tuo taglio, un qualcosa del genere. Quindi se hai un riscontro su questo, magari ce lo scrivi, per favore. Allora, ho letto. La sua pronipote che non ha mai visto fa un anno. Ah, ok. A marzo fa un anno. Ok, benissimo. E allora, tanti auguri da parte della bisnonna, ok? A questa nipotina meravigliosa. Andiamo avanti. Grazie perché siete stati bravissimi. Sono riuscita in maniera molto veloce a leggere tra i messaggi. Quindi vi ringrazio. E do il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati adesso. Va bene? Allora, Alice, tua nonna è veramente una donna simpatica, simpatica, ironica e poi mi ha messo un'energia perché era molto veloce. Infatti, voi non alcune, diciamo, richieste io le faccio mentalmente, no? Alla signora, ai nostri cari. Quindi voi non ascoltate quello che io comunico mentalmente. Però a un certo punto vi ho detto devi parlare un po' più piano perché altrimenti vi faccio confusione con tutte queste informazioni. Allora, vediamo adesso chi arriva, chi c'è per voi, ok? Come sempre vi chiedo se riconoscete l'80% delle evidenze quando ho portato le prime informazioni e di cominciare a scriverlo. Ma tanto io ve lo comunicherò, ok? Vado avanti. Ok. Allora, vediamo chi arriva adesso. Allora, sento un'energia femminile, sento che sto parlando con una bimba perché la sento molto piccola. sento una... è carinissima, intorno a una bambina, intorno a 10 anni lei è andata dall'altra parte, cioè mi fa vedere 10, in realtà piccolina. Quindi se dovessi descriverla così come la vedo, gli darei un po' meno di età, intorno agli 8, però lei dice che ne ha 10. Quindi io mi voglio fidare di questa bambina che è molto sapientona. Sapientona che cosa vuol dire? Che secondo me è un po' che sta nel mondo spirituale. Io direi che lei si trova nel mondo spirituale da almeno una decina d'anni, 10, 15. Ecco, mi rimane un po' difficile, però so che non è poco tempo che è nel mondo spirituale, almeno dai 10 in su. Sento che la bambina... sento un dolore al petto, come se lei fosse... cioè mi sta dicendo che aveva un problema al cuore, come una malformazione dalla nascita. Comunque è qualcosa che è venuto fuori e appunto questa malformazione non l'ha fatta vivere tanto. Ok. Lei mi parla di fratelli che sono arrivati dopo di lei. In particolare sento che mi parla di un bambino, di un figlio maschio, dopo il suo trapasso, dopo un paio d'anni del suo trapasso. Ok. E non so se mi sta parlando del papà, del papà, che potrebbe essere Franco o Francesco. Franco o Francesco. Un nome che ha a che fare con la sua famiglia, comunque, questo nome. Lo sento molto... Sì, sento che me lo pronuncia, quindi darei importanza a questo nome, a questo nome, in questo contatto. Ok. Rimango con la bambina. Rimango con la bambina. Allora, io mi voglio fidare dei ragazzi, perché io con i nomi non sono bravissima. Però mi dice anche Teresa. Lascia il tempo che trova, però io di solito quando sono i ragazzi che mi fanno sentire i nomi, nel 90% dei casi hanno veramente qualcosa a che fare con loro. Allora, vediamo se c'è qualcuno tra di voi che può riconoscere questa bambina. In questo caso, in particolare, io vi chiedo di pensare, anche se conoscete delle persone vicino a voi che hanno perso una bambina, ok? Che sapete la storia, magari, della perdita di un figlio. Questa bambina ha intorno ai 10 anni, va bene? Rimango sempre con la bambina. E mi parla, è curiosa, è curiosa, la voglio seguire, mi voglio fidare. Lei mi fa vedere come un tatuaggio su un polpaccio, ok? Un tatuaggio che sembra un ramo che avvolge o sembra un serpente. Comunque un tatuaggio sulla gamba, sul polpaccio, come se qualcuno che può riconoscerla ha questo tatuaggio. Ok, adesso vediamo, perché la bambina è particolare, quindi vediamo se tra di voi, guardo, se c'è qualcuno che può riconoscere questa bambina. Lei mi sorride, mi dice sì, sì, qualcuno c'è che può riconoscermi. È molto sicura di questo, quindi vi chiedo per favore di fare attenzione. Grazie Katia, grazie tante per questo riepilogo. Allora, vado prima. Allora, Cristina, allora c'è Cristina che mi scrive Mio fratello ha perso la bambina, Cristina, ha perso una bambina che aveva intorno a 10 anni, 8-10 anni, da circa una decina d'anni? Eh, no, subito dalla nascita, della nascita. No, Cristina, perché io sento che la bambina ha vissuto, ha vissuto nel mondo fisico per un po' di tempo, perché quando lei è arrivata mi fa vedere i suoi genitori, mi parla del suo vissuto sulla Terra, quindi ha dei ricordi del suo vissuto. Quando vanno nel mondo spirituale appena nati, me lo fanno prima capire e poi magari parlano in una maniera diversa per farsi riconoscere, però no, Cristina, mi dispiace, però la bambina è un po' che ha vissuto, e ha vissuto. Ok, che in realtà sto pensando che c'era anche l'altra volta questa bambina, non mi vorrei sbagliare. Vi prego, per favore, cercate di pensare, perché questa bambina forse è arrivata già in un'altra delle mie dirette, solo che quando arriva io non la riconosco subito. Ok, quindi sento... Allora, lei insiste che c'è qualcuno tra di voi che può riconoscerla. Facciamo... Io ce l'ho qui con me. Noi andiamo avanti con i nostri messaggi. Tanto voi avete ascoltato, la bambina rimane qui con me. Allora, Maya, mia sorella aveva dieci mesi. Amore, allora, è più grande Maya, sono sicura di questo. Io diciamo che sull'età sento molto, ok? Quindi sono sicura. Allora, ah, grazie. Sì, Vittoria è arrivata in un'altra diretta. Sì, Vittoria, questa bimba è già venuta. Grazie, infatti a un certo punto ho percepito che lei era un po'... Come per dire, dai. Quindi ho detto, ma sei la stessa dell'altra volta? Ok, ok. Allora, Giorgia, mia cugina ha perso una bambina e è annegata. Allora, Giorgia, mi puoi dire se corrisponde l'età della bambina quando è annegata e da quanto tempo? Ok, Zelda, anche per te io conosco una bambina di dieci anni. Ok, dieci anni va bene. Io ho perso una nipote, Nedra, aveva vent'anni e è morta nel 1990. No, è una bambina, Nedra, è piccolina la bambina che è qui con me, che è qui con noi adesso. Ok? Buonasera a tutti. Monica, nel 94 ho perso mia figlia di otti anni e mezzo, ma non soffriva di cuore. Ok, Monica, rimani con me, Monica, nel 94, quindi sono vent'anni, vent'anni, otto anni che è quello che io sentivo. Monica, rimani un momentino con me per favore e poi cerco di capire eventualmente il cuore, ok? Anna, la nipotina di una mia amica aveva dieci anni, il suo papà si chiama Franco e aveva un fratellino più piccolo, ma si è suicidato. Ok, Anna, rimani con me. Anna, rimani con me. Allora, Zelda, mi sono collegata ora, non ho seguito bene, ma la bambina che conosco io è morta a dieci anni. Adesso io cerco piano piano di leggere tra di voi e mentre sono con voi rimango con questa bambina. Però Franco, Francesco è importante, ecco perché ti chiedo di rimanere con me, Anna, ok? Allora, anche l'altra volta sì. Aveva otto, dieci anni, pare ormai diciotto anni fa, ok? Allora, Stefania, mia sorella è trapassata intorno ai sei anni, nel 68, ma non con il cuore, aveva la lucemia. Mio fratello nacque dopo un anno dopo il suo trapasso, la mia nostra nonna si chiama Teresa, Francesca è mio marito, ma non l'ha conosciuta. Allora, Stefania, rimani con me, va bene? Rimani con me. Allora, aveva la lucemia. Allora, io porto delle evidenze, gli chiedo alla bambina qualcosa per poterla far riconoscere, va bene? Allora, Stefania, per te le evidenze ci sono tutte, quindi rimani con me. La lucemia, ok, posso capire la malattia, diciamo una malattia congenita, qualcosa che si è portata dietro e poi, perché lei mi faceva, si metteva la mano sul cuore, mi parlava di una malattia che praticamente l'avrebbe portata alla morte, ok, come se fosse già tutto predisposto e scritto, quindi rimani con me, perché ci sono due nomi e io, i nomi non sono bravi, ma con i bambini e con i giovani loro riescono a farmi, a farmeli sentire. E tu riconosci sia Teresa che Francesco Franco, ok? Allora, vado avanti. Allora, Danila, oggi sarebbe il compleanno di una bimba, farebbe 19 anni ed è mancata a 9 anni, sono 10 anni che è andata via, è la nipotina di mio cugino da parte della moglie, ma vi diamo lontano e l'ho vista poco. Un bel visetto e una testata di riccioli castani. Ok, la bambina ha i capelli lisci, scusami Danila se mi permetto, però la bambina si è presentata a me con i capelli mori e lisci. Allora, vado avanti, ok? Vado avanti con la bambina. Rimanete con me e sentiamo la bimba che cosa mi racconta. Allora, allora, andiamo avanti. Allora, lei mi fa vedere che suo fratello, perché vi ricordo che lei mi parla di un fratello nato dopo di lei, che suo fratello fa molto sport, molto sport, uno sport che mi fa vedere la palla, quindi uno sport che è legato al pallone, con il pallone. Vediamo, poi mi parla di insegnamento, come se qualcuno a casa è insegnante di qualcosa, ok? Mi fa vedere l'insegnamento, ok? Quindi anche queste due evidenze. Mariana, Vittoria, se parliamo di malattia, allora io ho una mia cara amica morta a dieci anni di leucemia. Il padre si chiama Franco, lei era mora e liscia. Ok, Mariana. Allora, la bambina mi dice che suo fratello è uno sportivo, mi fa vedere che è uno sportivo, quindi fa sport, diciamo, molto spesso, fa molti allenamenti. E' uno sport legato al pallone, io non vedo né il calcio né il basket, però mi fa vedere il pallone, è uno sport che è legato al pallone. E poi mi parla di insegnamento in famiglia, ok? Quindi per Stefania, Anna, Giorgia, Mariana, che avete riconosciuto gran parte delle evidenze, vi chiedo di rispondere con scritto vicino Sì, riconosco l'allenamento oppure sì, riconosco l'insegnamento, ok? Ok. E rimango con la bambina. Rimango con la bambina. E poi il fratello maschio, nato dopo di lei, ok? Per favore, grazie. Perché lei insiste, io lo ripeto perché lei mi dice, l'importante è questo, ok? Ok, ok. E poi un'altra cosa, il tatuaggio, lei mi ha fatto vedere che in famiglia c'è qualcuno, cioè chi può riconoscerla, quindi nella famiglia, c'è un tatuaggio Questo lei continua a farmi vedere, questo tatuaggio più o meno sulla gamba, sull'altezza polpaccio, la parte bassa, ok? Della gamba. Ok, Stefania, allora queste due evidenze, no. Però Stefania, io ti ringrazio molto, ok? Per essere stata con me. Allora, Anna e Giorgia. Vediamo se, allora, Anna mi risponde, la mamma della bambina è un'insegnante di scuola elementare. Grazie Anna, perché era importante per me. Era importante, ok. Aspetto anche Giorgia, ok? Se può riconoscere l'insegnamento, perché la bambina è molto, come posso dire, ne parla con orgoglio dell'insegnamento, ok? Allora, Giorgia, io ho un tatuaggio nella gamba, ma in alto. Mio figlio ha un tatuaggio, un vegliaro sul polpaccio. Ok, Stefania. Ok. Aspetto Anna e rimango con la bambina. Ok, allora, perché, scusate, ma non è semplice per me gestire tutti i messaggi. Vado avanti, ok? Vado avanti. Io sento, vado avanti ancora con un'altra evidenza e poi chiedo alla bambina, ok? Chi può riconoscerla tra di voi. Porto un'altra evidenza, così sono più tranquilla. Allora, sento odore di mare. Mi fa sentire l'odore del mare. Quindi, probabilmente, la sua famiglia è vicino al mare. Perché sento l'odore della, mi fa sentire l'odore della salsedine, l'odore del mare. L'odore del luogo, ok? Dello spazio legato al mare. Quindi, la sua famiglia è molto legata al mare. O nell'origine o abita in un posto di mare. Va bene? Ok, vado avanti. Scusate. Allora, Giorgia è morta in mare. Ok. 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 Grazie, Kadia. E la madre abitava qui sul mare. Ok. Ok. Allora, per favore, Giorgia, mi puoi scrivere che cos'è tra le evidenze che non riconosci con scritto vicino, per favore? Perché io adesso guardo te e lei mi sorride. Però vorrei capire quali sono le evidenze che non è riconosciuto, per capire se riesco in qualche modo a decifrarle. Va bene? Allora, allora, Anna, la bambina vive in una città marina. Ok, Anna. Grazie. Grazie. Anche il tatuaggio, quello di Stefania, invece, è un veliero. Ok. Però sento che ha a che fare non con il tatuaggio, ma con il luogo dove abitava la bambina. Il mare è qualcosa che ha molto importante e che ha a che fare con lei. Allora, Anna, per favore, mi puoi anche tu scrivere quali sono le evidenze che non hai riconosciuto? Perché ce ne sono tante che avete riconosciuto. Quindi, perché io sento di essere con Anna. Sento di essere con Anna perché sto chiedendo alla bambina e lei sorride quando leggo il nome Anna. E io sono andata troppo avanti con la chat e non riesco a risalire. Vediamo se riesco da qua. Allora, scusatemi, cerco di rimettere a posto. Allora, vado con la bambina adesso. Ok. Allora, la bambina è curiosa. Delle evidenze molto importanti. Quindi, chi ha riconosciuto? Ok, ci siamo con la data, diciamo, della sua età del trapasso, da dieci anni. Però i nomi. Teresa e Franco. Ecco, quindi non ricordo chi tra di voi avesse riconosciuto questi nomi, però lei mi dice che i nomi sono importanti, che qualcuno tra di voi ha scritto che aveva riconosciuto entrambi i nomi. Quindi, per favore, se potete, se può scrivere la persona che ha riconosciuto questi due nomi. E nell'ultima evidenza il mare. Ci sono, ci sono. Piano piano. Non vado avanti perché la bambina mi dice, aspetta. Io aspetto che voi mi scriviate questa bambina. Devo dire che è una bambina molto particolare. perché ha un modo di parlare che sembra un'adulta, nel senso che ha una, verbalizza molto bene, quindi ha una parlantina, ok? Una parlantina. Allora, vediamo. Allora, Stefania l'ho scritto io, ma il resto purtroppo no. Ok, la bambina si è suicidata, il fratello l'ho conosciuto perché è nato dopo di lei, Franco. Ah, ok, Franco c'è però, è il nome del padre, non conosco il nome della madre, il papà è un sotto ufficiale della Marina Militare. Ok, 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 Anna. Ascolta, la bambina si è suicidata. No, lei però non si è suicidata. Lei mi fa vedere proprio la malattia, mi fa vedere l'ospedale, mi fa vedere le terapie. No, Anna, io ti ringrazio, però la bambina mi fa vedere l'ospedale, mi fa vedere che è rimasta in ospedale, che ha fatto delle cure mediche, mi fa vedere tutto il suo percorso. Entrava e usciva, ok? Quindi, Anna, io ti ringrazio molto, però sento che non è la bambina che tu pensi di aver riconosciuto, ok? Perché lei mi fa segno, anche no. Non si è suicidata, ok? Allora, Stefania, ascoltami, per favore, perché tu hai riconosciuto entrambi i nomi, che cos'è che non, che cos'è che non, in quale evidenze non ti riconosci, ok? Perché almeno l'ottanta per cento, però io sento che, niente, io sento Stefania che sono con te, ok? Sento che sono con te. La malattia, se riconosci la malattia, se riconosci l'entrata e l'uscita dall'ospedale, ok? Stefania, ok? Allora, Stefania, tu non riconosci l'insegnamento. Ascolta, c'è qualcuno nella tua famiglia, ok, che insegna qualcosa? Qualsiasi tipo di insegnamento, ok? Qualcosa che ha a che fare con il prendersi cura delle persone, insegnare a fare delle cose. Allora, Alessandra, io faccio volontariato in ospedale, conosco alcuni medici che hanno curato bimbi trapassati. Grazie, Alessandra. Però sento che qui c'è qualcuno che può riconoscere in maniera diretta, non che bisogna chiedere, ok? Qualcuno che conosce, che conosce. Lei è stata due anni in ospedale, inizialmente entrava e uscita, poi è andata in coma. Le evidenze che non riuscite sono il mare e l'insegnante. Allora, ok. Puoi chiedere alla bimba se conosce il nome Carlotta. Ok. Ci provo. No, no, no. Allora, Stefania, io sono con te, perché la bambina, quando ti guardo, lei mi sorride. Poi magari cercheremo di capire perché il mare. Magari il mare era il tatuaggio, il veliero, ha qualcosa a che fare con il mare, ok? Magari le sue origini della sua famiglia sono e arrivano da un luogo di mare, ok? L'insegnante, questo, prova a pensare, ok? Prova a pensare che tipo di insegnamento. L'insegnamento accoglie tutti gli aspetti della nostra vita. Lì dove impariamo qualcosa qualcuno ci ha insegnato, ok? Va bene così, ok? Sono per te, ok? Perché questa bambina, quando guardo, mi dice non andare ancora a cercare. Va bene? Allora, Stefania, tu conosci i suoi genitori, ho capito bene? C'è qualcuno, cioè tu puoi, perché lei mi fa sentire un legame molto stretto, ok? Con te. Mi fai capire che tipo di legame, ok? Ha con te, perché sento come un legame biologico, di parentela. Però mi sono un po' persa tra i messaggi, perdonatemi. E quindi, se riesco a capire questo. Allora, Stefania, il mio nome lo ha scelto lei. Ah, lei è mia sorella. Amore, ok Stefania, scusami se non sono riuscita a capirlo prima. Perdonami, perdonami tanto. Ecco perché sorrideva così tanto, era così agitata, così emozionata. Emozionata. Allora, Stefania, quindi il tuo nome l'ha scelto lei, vuol dire che lei era la sorella grande, giusto? Ok. Allora, vediamo cosa vuole dire tua sorella, piccola in questo caso. Allora, prima di tutto lei sa che ha lasciato un posto vuoto ma che è sempre rimasto pieno perché voi avete continuato a farla vivere nei vostri ricordi. Quindi il suo posto non gliel'ha tolto nessuno. Voi, voi, perché mi parla al plurale, siete diversi. Non prendete il suo posto nel cuore di nessuno, nemmeno dei genitori. Ognuno di voi è unico, ok? È unico per i vostri genitori e per tutti coloro che fanno parte della vostra famiglia, della sua famiglia. Lei si sente ancora di essere, lei si sente di essere comunque la vostra sorella maggiore perché dall'alto dei cieli, anche un po' romantica, vi guarda, vi protegge, vi ascolta. Quindi lei ci sarà sempre per voi. Stefania mi fa vedere un cambiamento, un cambiamento legato alla materia. Quindi quando sento questo sento un cambiamento lavorativo, qualcosa che ha a che fare con il lavoro, con i beni materiali. E mi fa un sorriso grandissimo, di augurio che ce la farai. Soprattutto tanto amore a tutti quanti voi. Lei sta bene, è vero che è andata via presto, è vero che è stata un'ingiustizia, perché lei lo pensa, non voleva, aveva una grande vitalità, una grande forza. Però lei è con voi sempre. Continua a vivere attraverso i vostri pensieri, attraverso i vostri messaggi. Quindi è come se fosse cambiata la modalità della comunicazione, ma lei è sempre con voi. E ci tiene a dirvi questo. Arriverà sempre da voi. E poi mi fa sentire anche i giochi. Lei gioca con il mondo fisico. Cose elettroniche che si rompono continuamente, che fanno cortocircuito. Non so se puoi capire questo. Però lei si diverte con voi. Quindi ancora continua a comunicare. Il vostro è soltanto una modalità diversa nel rapporto. Quindi tanto amore da parte di questa bambina. E sono felicissima che sia stata riconosciuta da te. Come giusto che sia. Perché non era la prima volta che arrivava. Quindi io ti ringrazio tanto. E ti mando tanto amore da parte sua a tutti quanti voi. Ti vuole tanto tanto bene. Immensamente bene. Grazie. Allora, l'ho salutata e lei, mentre andava via, con molta, diciamo, fantasia, diciamo, mi ha fatto vedere, gli ho detto che mi vuoi raccontare qualcosa, mi vuoi dire qualcosa. E lei mi ha fatto vedere i pesi, no? Ha fatto così con i pesi. Quindi non so se ha un senso per te, Stefania. Però questo è quello che, mentre andava via, mi ha fatto vedere. Ok? Allora, Antonella scrive, il mare è sul profilo della sorella. Grazie, Antonella. Grazie. Grazie. Ah, è vero, eccolo qui, Stefania. È vero. Forse è quello. Quindi è il tuo posto dove eri tu. Le radici, no? Per farsi riconoscere. Credo che abbia un senso. Ok, grazie. Me lo prendo per buono. Grazie. Allora, quando hai detto di pensare all'oltre prima della diretta, ho sentito un grande freddo. Sapevo. Grazie di cuore, Vittoria. Le voglio bene anch'io. Ciao, amore mio. Grazie, Stefania. Ecco, il freddo è anche un... È quando un'energia che arriva dal mondo spirituale tocca la nostra energia, ok? Quindi va in risonanza e crea questa percezione che può essere il freddo, che può essere il caldo, che può essere il formicolio. Quando un'energia diversa tocca la nostra energia. La nostra energia riconosce un qualcosa di diverso e lo trasmette attraverso queste percezioni. Ok? Quindi è interessante. Sì, ha un senso. Devo fare un'operazione importante e serve tanta forza. Ok. Grazie, Stefania. Grazie a te. Grazie. Ciao, Angela. La mia tata. La mia tata. La saluto perché le tate si salutano sempre. Angela. Allora, Slavi, grazie, Slavi. Tanti cuori anche a te. Allora, oddio, mi dispiace, sono già le 20 e 25. Allora, non posso fare un altro contatto perché non sarebbe rispettoso per i nostri cari trapassati. Con cinque minuti non riesco proprio. Però ringrazio tutti quanti voi per avermi seguita. Ringrazio perché ho sentito una grande energia nel gruppo verso il mondo spirituale ma anche per coloro che ricevono i messaggi. E sono soprattutto contenta per questa bambina che finalmente ha trovato sua sorella. Erano già tre volte, credo, che arrivava e la mettevo. Dico, rimani con me, prima o poi riuscirai. E quindi è riuscita a portare il suo messaggio e a farsi sentire. Io ringrazio tutti quanti voi. Slavi, la mia grande insegnante, nonché grande amica anche. Ti voglio bene. Ciao, Anna. Saluto tutti, visto che ho due minuti. Anna, ciao, Sara, Luigi, Agnese, grazie Agnese, grazie. Alessandra, questo mi scrive, adesso leggo. Stupendo questo contatto, brava Vittoria, grazie. Anch'io stanotte ho fatto un viaggio. Oddio, mi sono persa. Mannaggia. Aspetta, che qui mi scorrono all'improvviso. Niente, non ti trovo più. Allora, leggo sul cellulare. Questo contatto. Brava Vittoria, anch'io stanotte ho fatto un viaggio astrale e mi sono risvegliata a volta dal freddo. È l'energia? Sì, è l'energia. Sì. Poi i viaggi astrali, ragazzi, mi raccomando, quando fate i viaggi astrali, proteggetevi. Dovete sempre sapere dove state andando. Ok. Elisa, è la prima volta che ti seguo è stata un'emozione. Grazie Elisa, grazie mille. Grazie. Ciao Stefania. Ciao Agnese. Maia, grazie soprattutto a coloro che sono stati con me, che mi hanno seguito con questa grandissima bambina. Piccola ma grande bambina. Ok. Starei dieci ore ad ascoltarti. Claa, claa. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Anche voi siete fantastici e meravigliosi. Vi voglio bene, bene, bene. Sì, erano delle volte che cercava la sua sorellina. Che amore che siete mondo spirituale, è vero, sono proprio degli amori. Grazie Vittorio, un abbraccio grandissimo. Un abbraccio grandissimo anche a tutti quanti voi. Caterina, si può accontentare in privato? Sì, Caterina. C'è il mio numero su Facebook. Mandami un messaggio, che appena vedo il messaggio, poi in giornata, durante la sera, io rispondo. Va bene? Buonasera Alessio, buonasera Lori, buonasera Laura, Alessandra, buonasera. Grazie a tutti, grazie infinitamente. Grazie soprattutto a voi coordinatrici che mi seguite e mi aiutate durante i messaggi. Grazie mille. Buona cena, buona serata e ci vediamo prossimamente in altre dirette. Ciao Gaetano, grazie di tutto.